La formazione delle Miriam! Con il numero 99, Cigio! Con il numero 8, Cigio! Con il numero 9, Cristo! Cristo! Con il numero 10, Hakan! Con il numero 12, Andrea! Con il numero 13, il capitano Adessio! Con il numero 17, Raffael! Con il numero 20, Lucas! Riva! Con il numero 22, Matteo! Riva! Con il numero 68, Riccardo! Con il numero 79, Frank! Riva! A disposizione del Milan! Con il numero 25, Pepe Reina! Con il numero 90, Antonio Donnarumma! Con il numero 4, Ismael Venossel! Con il numero 5, Jack Buonaventura! Con il numero 7, Samuel Castiglieto! Con il numero 11, Fabio Morini! Con il numero 18, Ante Rebic! Con il numero 19, Teo Hernandez! Con il numero 33, Rade Krulic! Con il numero 39, Lucas Paqueta! Con il numero 43, Leo Duarte!